La comunità di Santa Maria del Principio, a Torre del Greco, si prepara alla festa dei Santi Anna e Gioacchino. Quest'anno celebrata senza particolari festeggiamenti civili, vista l'emergenza coronavirus in atto. Don Luigi Maiulo, parroco della Chiesa di Santa Maria del Principio. Un anno particolare anche per i riti religiosi inerenti alla festività di Sant'Anna. È realmente un anno particolare quello che stiamo vivendo, è l'anno della pandemia e a livello celebrativo, come dicono le norme, dobbiamo osservare le norme proprio per il contagio e per l'assemblamento. Sabato 25, in occasione del 62esimo anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna del Principio, sarà celebrata una Santa Messa all'aperto alle ore 19. Le celebrazioni eucaristiche, in onore dei due Santi, culmineranno domenica 26 luglio. Il mese di luglio è un mese importante, sia perché ricordiamo il 62esimo anno dell'incoronazione dell'immagine della Madonna del Principio, e sia perché il 26 celebriamo la festa dei Santi Gioacchino e Anna. Quest'anno abbiamo dato solo l'aspetto liturgico in Chiesa, con le celebrazioni eucaristiche, che iniziano domenica 26 dalle 6 del mattino, 6, 8, 10, 11 e 30, 12 la supplica, e nel pomeriggio alle 19. Tutto questo avverrà fuori del Tempio, dove stiamo preparando una Chiesa aperta, proprio per dare lo spazio a tutti coloro che desiderano partecipare a questo momento liturgico e di preghiera. La Chiesa, quindi, è la comunità, la comunità che si stringe intorno al proprio parroco? E' certo, al proprio parroco, il parroco che si stringe intorno ai suoi parrocchiani, perché non c'è comunità senza il parroco, non c'è parroco senza comunità. Un messaggio ai giovani che sono tanti in questa comunità? E' che non devono perdere la speranza, devono cercare realmente di aprire il loro cuore all'ascolto della parola di Dio e di essere perseveranti nel cammino della propria fede.